La rassegna stampa è stata offerta da I Sapori del Vallo L'arte di fare la pasta www.isaporidelvallo.it Buongiorno e ben trovati con l'appuntamento con la rassegna stampa di Uno News andiamo a sfogliare in questa prima parte il quotidiano il mattino vediamo la prima pagina il titolo di apertura si parla degli sgravi al sud vediamo come risultano comunque zero proprio le assunzioni con gli sgravi vediamo sgravi al sud nessun assunto perché mancano i decreti attuativi intanto anche per quanto riguarda il bonus giovani 2018 è stato congelato dalla burocrazia per quanto riguarda invece gli esteri a Davos Merkel contro il protezionismo di Trump non ha imparato la lezione della storia queste le parole andiamo avanti la politica invece è italiana il caso Bassolino sedotto e abbandonato per far posto ai Bing a 60 anni era l'ultima occasione per tornare nel giro che conta del resto si prova a rientrarci anche Massimo D'Alema perché non avrebbe dovuto Bassolino e invece niente da fare perché pare che Antonio Bassolino non sarà candidato andiamo avanti ancora la politica i programmi gemelli di Salvini e Di Maio e poi governo dopo il voto colle senza vincoli dopo il voto non ci saranno vincoli per il Presidente della Repubblica nella scelta del Premier andiamo avanti ci spostiamo di spalla il giallo di Casoria Ciro ha aggrappato al treno in corsa l'ipotesi di un tragico incidente poi l'intervista la fidanzatina era in ritardo temeva di essere rimproverato andiamo a centro pagina la scienza clonata la scimmia ora si rifletta perché un esperimento umano sarebbe inutile per quanto riguarda invece il calcio si parla del calciopercato del Napoli Iune è vicino arriva l'ultimo piccoletto buon acquisto ma ora serve un difensore di taglio basso per le notizie da Salerno a Liberti in cella la battaglia continua inchiesta su camorra e politica l'ex sindaco di Scafati a Forni e poi la carezza del Papa agli angeli malati in Vaticano 24 bambini della terra dei fuochi colpiti dalla leucemia questi sono i principali argomenti per il quotidiano il mattino ora andiamo avanti continuiamo a sfogliare il quotidiano e andiamo sulle pagine di primo piano dove si parla proprio degli sgravi al sud e con lo scarso numero di assunzioni vediamo o meglio nessun assunto nonostante gli sgravi vediamo infatti sgravi totali al sud nessun assunto flop dei decreti attuativi mancano i moduli IMSS resta congelata anche la misura varata dal governo in vigore dal primo gennaio il nodo alla legge non hanno fatto seguito le norme attuative aziende preoccupate e poi la replica dall'istituto assicurano le imprese potranno accedere attraverso conguaglio ancora SOS da Napoli gli industriali si rischiano molti posti di lavoro se le procedure non partiranno al più presto queste le parole insomma quindi comunque c'è pericolo anche per le aziende che avevano a questo punto deciso di assumere in attesa proprio di questi sgravi però mancano i decreti e abbiamo visto insomma anche da questo articolo mancano addirittura anche i moduli andiamo di taglio basso contratti statali gli arretrati promessi rischiano di slittare mancano i soldi per garantire gli 85 euro mensili ai 630 mila del comparto della sanità continuiamo sempre per quanto riguarda queste pagine di primo piano dedicate alla economia del paese industria 4.0 con l'handicap della burocrazia un anno fa la stessa paralisi per le agevolazioni il portale web non era stato aggiornato ma Zucca l'impresa viaggia sempre più verso il futuro ma gli uffici degli enti però sono fermi e poi parla anche Ruvolo la volta scorsa avvertimmo la sfiducia tra le imprese e pressammo l'istituto di previdenza lasciamo queste pagine andiamo avanti andiamo sulla pagina dedicata alla notizia l'articolo che racconta un po' la giornata dei bambini affetti dall'eucemia provenienti dalla terra dei fuochi che sono stati accolti da Papa Francesco in Vaticano a ritorno dal suo viaggio vediamo l'incontro bimbi ammalati ma guerrieri il Papa con la terra dei fuochi sala riservata ai 24 piccoli per evitare che avessero freddo il legame durante il viaggio nel 2014 Bergoglio così colpito da scrivere un'enciclica e poi l'allarme cancro e leucemia l'incubo di chi vive nei territori avvelenati dai rifiuti andiamo avanti di taglio basso quel bacio sulla fronte a Rosa mi dà coraggio la mamma Catapano racconta un'emozione indimenticabile dopo un anno di calvario il dono una coroncina per ogni bimbo a noi genitori ha stretto la mano quindi momenti emozionanti vissuti in Vaticano ieri per questi bambini per i tanti bambini ammalati provenienti dalla terra dei fuochi ma lasciamo questo argomento ci spostiamo ora sulle pagine del mattino di Salerno per vedere quali sono gli argomenti che più interessano il nostro territorio innanzitutto lo abbiamo visto anche dalla prima pagina il titolo di apertura a Liberti in carcere combatterò queste le sue parole l'ex sindaco di Scafati prelevato nella villa di un amico apre la porta ai carabinieri a Forni dopo la decisione della Cassazione nell'inchiesta sui rapporti tra clan e politica shock e polemiche poi lo sfogo della moglie e i miei figli ho detto camminate a testa alta e ancora le reazioni parla Fasano il amarezza mentre Cirielli non cambia il giudizio politico ci spostiamo di fondo invece per quanto riguarda le notizie provenienti dalla politica in attesa dell'ufficialità delle candidature vediamo come si stanno muovendo i vari partiti in particolare vediamo verso il voto per il PD Renzi De Luca Junior faccia a faccia correrà a Salerno l'incontro Lampo al Nazareno poi l'ok Spiraglio anche per Alfieri i cambi invece nel Cilento e poi le strategie Movimento 5 Stelle nomi sotto coperta la mossa di Cioffi andiamo avanti l'intervista perché corro con Salvini centro pagina annunzia è l'ultima notte falla dormire con me le indagini sul femminicidio a Cava dei Tireni la richiesta del marito assassinato alla suocera alla vigilia del delitto poi me ne vado via da casa e ancora l'altra storia sms dall'ex compagno uxoricidio uxoricidio ecco cos'è manca il tuo nome per quanto riguarda invece il calcio la salernitana centro campo spunta il talento machine sul taccuino il 21enne della Roma e poi l'intervista rivederci cicerelli tornerò granata queste le sue parole andiamo ora di taglio basso la musica ieri alla Feltrinelli a Salerno fenomeno sfera assalto alla Feltrinelli a caccia di autografi e poi la scuola lo smartphone compagno di banco via libera le lezioni in 50 istituti e andiamo ad approfondire proprio questo tema questo legato appunto all'introduzione degli smartphone nella scuola come deciso vediamo perché insomma ritenuti comunque strumento utile proprio per l'insegnamento e vediamo che tra le pagine di primo piano del mattino di Salerno si parla proprio dello smartphone in classe vediamo via libera in 50 istituti tecnologia e didattica dirigenti e studenti concordano le regole ok da un preside su tre vediamo uso consapevole in linea con le esigenze didattiche ecco cosa pensano i presidi salernitani dell'introduzione dello smartphone nel corso dell'attività didattica il via libera al cellulare in cartella è arrivato nei giorni scorsi dal ministro dell'istruzione fedeli che ha ribadito di essere favorevole all'introduzione della tecnologia in classe a patto che sia il docente a dirigerne l'utilizzo e non ci sia uso personale ma quella dello smartphone in classe non è una novità per alcuni istituti di salerno e provincia che già da due anni hanno introdotto il sistema dell'utilizzo didattico del cellulare continuiamo la consulta al sabatini menna carosi dialoga con gli studenti lezione del vice presidente della corte costituzionale unico incontro a salerno andiamo poi di taglio basso torniamo a parlare delle scuole dell'edizia scolastica con le scuole a rischio sismico vediamo pressi a rischio sismico pressing sul sindaco per i lavori la commissione trasparenza nessun cronoprogramma Napoli ci dica cosa intende fare i costruttori lombardi all'attacco i primi cittadini sappiano che ci sono conseguenze penali proprio in merito ad eventuali croli all'interno degli istituti scolastici quindi anche i sindaci pare possano essere responsabili andiamo ora sulle pagine della provincia di Salerno quelle dedicate alle notizie della Valle del Sele del Cilento e del Vallo di Diano vediamo in apertura andiamo ad Eboli su questa pagina giù la grotta della Madonna è abusiva la struttura nata due anni fa con la benedizione di un consigliere di maggioranza la demolizione al paterno eseguita da tre residenti che l'avevano costruita e poi a Battipaglia per colato e amianto interviene il comune l'azienda Moscariello dovrà rimuovere 800 tonnellate di materiale centro pagina restiamo a Battipaglia stroncato a 28 anni sospetta eutanasia il giovane lottava da tempo con un male incurabile morto nella sua abitazione per quanto riguarda le notizie che interessano il nostro territorio andiamo a Padula plastica nello yogurt blitz dell'asre sequestro il prodotto pascoli italiani ritirato dal commercio ad Albanella sicurezza città blindata Iosca tutela ai residenti questo per la lotta alla criminalità e poi andiamo a Vallo della Lucania oro di San Pantaleone condannati sei ladri fino a tre anni di cella per il settimo della gang chiesto il rito abbreviato messo a segno da otto banditi il bottino fu poi diviso tra dieci questa è la pagina dedicata alla provincia di Salerno con cui chiudiamo questa prima parte della nostra rassegna stampa breve spazio pubblicitario per poi rivederci tra pochissimo con il resto dei nostri quotidiani restate con noi bentornati a questa seconda parte della nostra rassegna stampa andiamo sul quotidiano la città vediamo anche la città apre con il caso di Aliberti vediamo il giudice i giudici non fanno sconti Aliberti in cella clan e politica l'ex sindaco di Scafate arrestato per scambio elettorale politico mafioso la prima notte a Forni stessi reati per Luigi e Gennaro Ridosso già detenuti l'accusa della DDA regge in Cassazione e continuiamo sempre su questo argomento parla l'avvocato e l'antimafia da inquisizione mentre la moglie lotterò con lui fino alla fine questo è il titolo di apertura queste le principali notizie ora andiamo avanti parliamo invece della politica e delle prossime candidature la sinistra tradisce le donne nessuna va nei listini niente donne nel listino proporzionale la sinistra le tradisce nel PD in un collegio Giussi Fiore potrebbero spuntarla le uscenti Saggese e Capozzolo e poi invece i centristi Udc Cobellis non si candida senza un posto utile di fronte alla possibilità di non essere inserito in un posto utile per l'elezione Luigi Cobellis è pronto a disertare le liste Udc questo per la politica andiamo avanti ci spostiamo di spalla ai luoghi della cultura utilizzo auditorium e petizione al comune poi la burocrazia comune 246 giorni per pagare i debiti ancora siamo sempre a Salerno restyling e igiene i mercati cambiano di taglio basso troviamo un articolo dedicato a Tonino Lupino vediamo un sorriso nell'etere pioniere delle radio libere quando Voitila gli tirò le orecchie la radio è teatro con platea sparsa nell'etere e molti ne sono rimasti ammaliati basando la propria vita su un mixer su mixer e microfoni questo è Tonino Lupino che ha fatto della radio la propria religione andiamo avanti weekend Albanella e San Cipriano i paesi dell'anima questa è la prima pagina del quotidiano la città ora andiamo restando sempre sulla città sulle pagine dedicate al nostro territorio quindi al Vallo di Diano e al Cilento e agli Alburni cominciamo dalla pagina del Vallo di Diano vediamo i titoli principali Teggiano dopo sette anni partono gli espropri per ultimare la strada provinciale 330 la provincia ha avviato l'iter sono 40 i terreni interessati l'opera consentirà il collegamento con lo svincolo di sala Consilina e poi a Montesano sulla Marcellana danno erariale assolto l'architetto il progettista era accusato con altri 10 di un pasticcio da un milione a Salvitelle arriva la compostiera di comunità risparmi per le famiglie mentre torniamo a Montesano di taglio basso via alla gara per la nuova illuminazione per le notizie invece che riguardano il Cilento e gli Alburni vediamo da due anni in attesa dell'appello quando potrò avere giustizia San Giovanni Appiro il dolore del padre di Dorotea Di Sia la ragazza che perse la vita in un incidente stradale nel 2016 la condanna del fidanzato che guidava ubriaco e drogato mi appello al presidente Mattarella a Santa Marina la Cassazione conferma le assoluzioni mentre a Capaccio Pestum blitz antidroga via agli interrogatori saranno ascoltati i 9 arrestati dell'operazione che ha sgominato la rete di spaccio continuiamo gli astrocilento incarichi sui tributi la minoranza accusa procedura illegale sempre di fondo a Perdi Fumo Unione Alto Cilento parte la raccolta firme per il referendum infine chiudiamo con Vallo della Lucania condannati i ladri dell'oro di San Pantaleone questi sono alcuni degli articoli che troverete sul quotidiano la città ora andiamo sulle cronache vediamo il titolo di apertura a casa Marrazzo a Pagani l'ultima notte di Aliberti ospite di un amico atteso l'arrivo della DIA per andare in carcere l'arresto dell'ex sindaco di Scafati la moglie Monica Paolino prima di salutarmi le uniche parole per i figli la sua preoccupazione oggi l'interrogatorio di garanzia saranno chiesti i domiciliari niente sconto anche ai ridosso andiamo ora ancora avanti partirà a Cava dei Tirreni domani fiaccolata per Nunzia oggi l'interrogatorio per Stiani partirà da Piazza Lentini alle ore 18 e proseguirà fino a Piazza San Francesco e poi conservatorio la direttrice si rivolge alla rete per l'auditorium sottoscrizione su change.org forse bastava una telefonata ancora verso il voto esposito di Fratelli d'Italia nel collegio di Salerno Forza Italia ipotesi Sacco andiamo questa è per la politica questa è la prima pagina di Le Cronache e ora andiamo sulle pagine dedicate al nostro territorio quindi alla parte sud della provincia di Salerno che apre con Agropoli vediamo la sanità decesso Martinelli l'autopsia effettuata scusate con la cronaca risultati ora tra due mesi esame autoptico svolto martedì da Zotti con periti di parte dopo l'esame nacroscopico è stata liberata la salma del 49enne morto dopo il ricovero in ospedale bisognerà attendere che trascorra almeno 60 giorni il tempo necessario che il medico legale che ha eseguito l'autopsia si è riservato per consegnare la relazione contenente i risultati dell'indagine alla magistratura inquirente ad Albanella lascia il posto in consiglio Lucia Guarini mentre di taglio alto andiamo ad Auletta si continua ancora a parlare della frana di Auletta lavori mai avviati continua il disagio gli interventi sempre solo annunciati ma non sono mai stati realizzati la strada statale 19 delle Calabrie rimane mestamente chiusa sono trascorsi quattro anni dalla frana del 24 gennaio 2014 sulla statale 19 delle Calabrie nel comune di Auletta provocando la chiusura dell'arteria che da allora non è stata più riaperta andiamo a Santa Marina andiamo di fondo il comune viene assolto comunità montana invece condannata mentre di taglio basso restiamo nel golfo di Policastro nuova ondata di truffe agli anziani nel mirino quattro donne pensionate in tre casi però le vittime insospettite avvisano i carabinieri e su queste notizie ci chiudiamo la nostra rassegna stampa io vi ricordo alle 13 e 45 l'appuntamento con il nostro Tg grazie per averci seguito auguro a tutti una buona giornata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti